Signori e signori, ecco a voi il soggetto che ha guadagnato il titolo di Best in Show all'esposizione internazionale canina di Piacenza, il Maltese. Il vincitore dell'esposizione internazionale canina di Parma, il Levriero afgano. Il vincitore del Best in Show di Reggio Emilia, il Wifet. Giudice del Best of Best dal Giappone, Ichiro Ishikawa. Il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone. Il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone. Il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone. Il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone. Il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone. Il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone. Il Vincitore del Best dal Giappone, il Vincitore del Best dal Giappone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signori e signori, and the prize for best of best goes to... Maltese, che si aggiudica anche il premio offerto da Taco Boutique. Grazie a tutti. Buongiorno, arrivederci alle prossime esposizioni organizzate dal gruppo Cinofilo Reggiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.